A fine dicembre eravamo in una situazione abbastanza critica, devo dire la verità. Prendevamo quattro gol a partita. La nostra forza è sempre stata quella di allenarci al massimo e non abbassare mai la testa, anche tra mille difficoltà. Siamo sempre risaliti su. In un modo o nell'altro ce l'abbiamo sempre messa tutta. Abbiamo risposto da grande squadra, ma più che altro è uscito dentro di noi il sacro fuoco. Ognuno di noi ha un qualcosa dentro che brucia. Un attore extra calcio, tu direi. Ognuno di noi ha un sacro fuoco che brucia, poi dipende se brucia di più o brucia di meno. Dopo Montevarchi ha iniziato a bruciare tanto. No, vabbè, ce l'abbiamo affrontato anche all'andata. Io personalmente in quel caso non sono partito dall'inizio. Sono entrato al sessantesimo. Però ora, con il mister, con lo staff, con tutti quanti, la prepareremo. Cioè, non è un giocatore che ci deve mettere, diciamo, a prensione. Il Ponte d'Aereo è una buona squadra, lo sappiamo. Però che noi ora abbiamo il cartello tra i denti, come diceva prima il collega.